capitolo primo madre notte scoprire il vuoto dentro l'anima rimanere immobili incompiuti ma con la speranza di poter risorgere ecco come si sentiva zildi in quella frazione temporale disteso anzi ingoiato dal suo amico letto era esausto le sue mani grudavano sudore e guardava le goccioline che scorrevano dai suoi palmi verso le sue braccia formando strabilianti rigagnoli fino a capitombolare dolcemente sul pavimento e bagnare dolcemente l'uomo senza talento inghiottito da una profondissima inedia combatteva contro il suo contrario contro la sua voglia di riscatto contro tutto quello che avrebbe voluto essere la sua anima desiderava innalzarsi al cielo voleva vivere e cogliere l'essenza stessa della gioia di esserci in quel preciso momento ma un'energia più forte di quella gravitazionale lo teneva incollato al suo amato letto erano le due del mattino un'altra notte insonne morfeo non era arrivato ancora e quasi deciso a cambiare tutto in un impeto di energia positiva improvvisamente l'attimo successivo accecato dall'intermittenza dei cristalli liquidi della sua meravigliosa radiosveglia digitale piombò nel suo mondo fatto di ricordi di sensazioni e di odori di viaggiatore solitario dei sorrisi di chi gli aveva voluto bene delle fantasmagoriche serate in cui era stato il protagonista di fantomatiche ed inaspettate esibizioni dal vivo l'avevano soprannominato tanti anni prima battery man ancora batteva nel suo petto come un martello il desiderio della sua rivalsa quando di fronte a centinaia di occhi increduli aveva stupito ed affascinato tutti proprio lui quel ragazzino timido schivo silenzioso poteva fare tutto quello dentro ognuno di noi c'è la leggenda e proprio in quei momenti era così che si sentiva sildi leggendario così ripiombò nel dormiveglia a lui tanto caro sperando di poter sognare ancora perché era soltanto quello che ormai dava un senso alla sua esistenza lo stato dell'arte dei suoi sogni così meravigliosi e fluidi da mozzare il fiato anzi quando a volte gli capitava di svegliarsi di sopra il salto destandosi da un momento incompiuto del suo sogno si rimaneva malissimo e così riposizionava cautamente la sua testa sul cuscino sperando così di riprendere il sogno da dove lo aveva lasciato desiderando che il flusso bruscamente interrotto potesse scorrere di nuovo nel suo cervello creatore di mondi immaginari a volte terribili altre volte meravigliosi e nello splendore dei colori che lo stordivano si sentiva vivo amato tutto aveva un senso lì il suo ingegno intemperante sfrenato si placava varcando più volte la soglia della felicità più semplice che fosse mai esistita attendeva che le sue palpebre si chiudessero per assistere al meraviglioso palco di una nuova avventura ancora una volta solo in quello stato onirico la consapevolezza del dolore finalmente veniva cacciata via e il blu meraviglioso si diffondeva dentro di lui non c'era spazio e tempo per il signor rimorso il blu lo divorava nessuno spazio per il tenace rimpianto che era dissolto da angelo blu che prontamente accortosi delle prime lacrime di zildi lo avvolgeva con le sue ali morbide e profumate restinguendo tutto quanto avrebbe potuto rovinare il sogno del nostro amico fragile come posso aiutarti ancora zildi sarò sempre al tuo fianco ogni volta che lo vorrai io ci sarò sempre per te e il blu lo guardava con gli occhi dell'amore sì proprio dell'amore universale ed infinito che è dare senza volere che è incomprensibile e logico ed imprudente labile come la polvere di farfalle che è negli occhi del tuo cagnolino che non c'è più che non si può spiegare ma è stato provato da ogni essere umano almeno una volta nella vita o prima di morire che esso stesso è vita sempre e nonostante tutto zildi era pagato e felice per aver vissuto intensamente quegli attimi lui che desiderava le stelle lui che viveva per la musica e per gli occhi di arcobaleno che aveva sfiorato solo una volta aveva trovato ora la forza di rialzarsi per affrontare l'alba di un nuovo giorno capitolo secondo un nuovo giorno nessuno sapeva quanti anni esattamente avesse né da dove fosse venuto certo non era proprio giovane ma magrissimo e di carnagione scura aveva dei capelli neri come il carbone ed elegantemente arruffati quasi a plasmare una splendida onda i suoi occhi erano di un verde limpidissimo ma un po tristi per il resto era volutamente ordinario fino all'estremo per non farsi notare e passare inosservato riuscì a rialzarsi e dopo pochi minuti era già pronto per uscire di casa e si diresse verso la metropolitana appena varcato nell'ingresso si sentì parte di qualcosa nel tragitto a lui caro si divertiva a guardare quelli che gli erano accanto vedendo in ognuno di essi un pizzico di tristezza o tranquilla rassegnazione inserendosi nel flusso delle scale mobili tutti in quel preciso momento sembravano travolti dalla vita sceso alla sua fermata sbucò dall'oscurità del sottosuolo e sentì immediatamente nelle sue narici l'odore della strada e dell'acciottolato a lui così familiare ben voluto e rassicurante attraversò l'amato fenix park a passi morbidi e non frettolosi incontro corrente con il resto dell'universo osservando l'erba appena tagliata le panchine così silenziose e vuote le aiole splendidamente decorate e i marciapiedi dalla simmetria perfetta zildi era felice in quei momenti e provando quella sensazione di benessere voleva rincorrerla e custodirla gelosamente in uno scampolo di liquida gioia ma sapeva bene che non sarebbe durata a lungo i suoi genitori l'avevano amato tanto e stava male al solo pensiero di quando non ci sarebbero stati più erano lontani ma un legame profondissimo e certo li univa a lui e aveva scoperto in più occasioni di avere delle premonizioni riguardo loro sia nei sogni che in altri momenti della giornata mentre camminava e si perdeva pensando a quanto incommensurabile fosse stato il loro amore verso di lui veniva salito da una sensazione intensa di paura pensando al vuoto che si sarebbe creato quando lo avrebbero lasciato zildi sveglia giunse una voce dolce e familiare dentro di lui e ritornò sulla terra colto da un fulmineo ma dolce déjà vu colmo dell'energia e della forza donata da un'antichissima landa di eroi del nord era un giorno splendido pieno di sole e alieno a se stesso si recò al lavoro nascondendosi delicatamente nel suo immaginario guscio da cui sarebbe riapparso proprio quando non ne poteva più come al suo solito sforzandosi di apparire sereno di fronte agli altri che ai suoi occhi apparivano così lontani l'edificio in cui lavorava era come un operoso aldeare ma tra tutti gli esseri semoventi al suo interno non vi era alcuno spirito di gruppo come invece in un alveare vero zildi però caro lettore svolgeva bene il suo lavoro lì dentro anzi nessuno poteva dire né bene né male di lui per gli altri era solo come estraneo a loro e anche a se stesso forse un pochino strambo enigmatico per qualche altro se fosse stato assente o mancante non sarebbe successo proprio nulla tutto sarebbe andato avanti tutto sarebbe passato ancora una volta con o senza di lui ciò che più lo faceva soffrire era il non detto e veniva spesso colto dalla sensazione di esserci in quel luogo ma solo con la sostanza con la materia e non con l'anima che era chissà dove in quei momenti libera e impercettibile come una farfalla al termine dell'unica sua giornata di vita in precario equilibrio col suo fiore prediletto prima di morire dolcemente il non detto regnava imperioso tra tutti varcarlo avrebbe fatto bene a chiunque ma nessuno aveva mai avuto il coraggio di farlo o semplicemente parlarne ognuno di loro aveva acquisito un'impenetrabile corazza per difendersi istintivamente da chiunque altro fino a far assumere all'intero luogo le sembianze di una triste fortezza inespugnabile dall'esterno e dall'interno zildi procedette con maniacale precisione alla vestizione come si addiceva al suo ruolo era un classificatore di quarto livello dell'archivio universale di dublino il più grande edificio esistente al mondo era lì che confluiva qualsiasi documento oggetto cartaceo digitale proveniente da qualsiasi istituzione conosciuta che avesse definito in qualsiasi maniera qualsiasi tipologia di istanza reclamo pratica che riguardava ogni essere umano o umana pertinenza ogni giorno inesorabilmente rundevano in archivio dai 50 ai 60 autotreni stracolme di fascicoli oggetti di tutti i tipi che dovevano essere catalogati e classificati nei suoi meandri a zildi insieme alla sua squadra di eroici classificatori veniva quotidianamente assegnata la mole di oggetti da catalogare e successivamente classificare era un lavoro duro astruso a volte però addirittura piacevole per la scoperta di oggetti mai visti o incredibilmente strani altre estremamente pericoloso poiché nello stesso giorno poteva capitare di percorrere decine e decine di chilometri per raggiungere la sezione di riferimento col rischio di sbagliarsi e perdersi in un labirinto di mini veicoli che andavano e venivano in binari che si intersecavano o si rincorrevano in immensi paralleli sebbene i mini veicoli fossero stati programmati con le destinazioni da raggiungere tuttavia era l'operatore a dover preliminarmente interpretare la tipologia di documento raggruppandolo con quelli simili assegnatili e solo dopo partire verso la giusta destinazione non di rado si commettevano errori quando si arrivava alla sezione ritenuta competente lì l'operatore inseriva l'oggetto documento in un sofisticatissimo scanner tridimensionale che criptava preliminarmente e poi digitalizzava il manufatto e anzi poteva rigettarlo ritenendolo di non sua competenza e a zildi era capitato svariate volte e allora si ripartiva verso l'apposita macro sezione degli oggetti non classificabili o affetti d'errore interpretativo era un posto incredibilmente labirintico e saturo fino all'asfissia e zildi stava male solo al pensiero di doverlo raggiungere zildi comunque era un veterano e non si perdeva d'animo sfrecciava velocemente nel labirinto e si lasciava accarezzare dallo scintillio di luci artificiali si aggiustava poi il suo balorama pensando con nostalgia ad henry calligan sentiva l'odore dell'ozono degli immensi scanner disseminati ovunque e dentro di sé viaggiava in un altro mondo un universo di fluide melodie di un'intera vita e mentre la musica si impadroniva del suo essere iniettando gli multiple scariche di serotonina il benessere e la gioia si impadronivano di lui gioia di vivere infinita bellezza di una solo di chitarra ripetuto all'infinito maestosa cascata di mellotron di pachidermica lentezza cristallina sequenza di percussioni caldissimo incedere di basso elettrico il sorriso del suo idolo toni yommi zildi avrebbe voluto che quel magma di stati d'animo non finisse mai e così viaggiava e volava al di fuori del suo involucro terreno si librava nell'aria con l'eleganza di uno scarabeo dorato con ali di arcobaleno eterno spiegate verso il cielo limpido amico e familiare come il suono di un gigantesco organo hammond posseduto da keith emerson vola per sempre libero caro zildi è questo per cui sei nato non voltarti mai indietro non smettere mai di credere è questo che è sempre agognato rincorso desiderato sopra ogni cosa al di là del tempo e dello spazio infinito e volava felice solo ma non solitario sorvolava le folle oceaniche e sfiorava i flutti degli oceani azzurri e verdi come i suoi occhi lucidi e radianti rincorrendo i flussi migratori imitandone le complicate acrobazie aeree strane e stupende fino a raggiungere insieme alle maestose aquile le cime gelide austere di un bianco accecante e che stordiva era contento nulla di più aveva mai cercato pronto a trasformarsi in energia forza positiva dell'universo sildi era così puro ed imprevedibile unico come sei tu che stai leggendo in questo momento con tanto amore speciale e forte come una querza secolare ma anche consapevole di poter sprofondare negli abissi della malinconia da un momento all'altro senza comprenderne il perché sentendo immediatamente di far parte di quelli scoraggiati di voler essere accanto agli ultimi fino a impregnarsi del loro essere in un delirio di ultravioletto delicatamente sussurrato capitolo terzo fuga dalla realtà sildi uscì dal palazzone al tramonto e sebbene in strada ci fosse una temperatura mite e un cielo limpido e sgombro di nuvoloni sentiva uno strano gelo dentro una sorta di freddo pungente e non sapevo spiegarselo ma improvvisamente questa sensazione svanì del tutto mentre camminava per ripercorrere al contrario il percorso verso casa scorse prima dell'ingresso della metropolitana la sagoma di un uomo che poteva avere al massimo 36 37 anni di carnagione olivastra con in testa un cespuglio di riccioli neri e sottilissimi era molto elegante e imbracciava un basso elettrico sussurrando un motivo che a zilti pareva familiare si avvicinò a lui e lo ascoltò estasiato quando l'uomo fermatosi gli disse caro zilti ora devo smettere cerca di volerti bene perché sebbene il tramonto nel tuo animo sia più forte e impetuoso dell'alba non lasciarti andare troverai sempre una ragione e tirò fuori dalla custodia vissuta del suo strumento una splendida rosa nera dallo stelo ricolmo di spine e profumata di fresca rugiada e la porsi a zildi che chiuse gli occhi in una trans improvvisa riaperti gli occhi l'uomo era scomparso e con lui la rosa ma il suo profumo era rimasto forte nelle sue narici e zildi ancora incredulo scosso prese la strada lunga verso casa era ormai sera l'aria era dolce come l'atmosfera di una public house e fresca come la brezza di mare mi stassa il sedine torba di la froig la luna faceva già capolino nascondendo il suo lato oscuro ma donando la sua luce che pareva una fiammella che il viandante tiene viva durante il suo peregrinare in territori sconosciuti e affascinanti zildi camminava e fantasticava osservava le luci delle case desiderando di poter vedere chi ci viveva chi fosse stato chi avrebbe voluto essere condividerne gioie e dolori una infinita tristezza lo colse in quel momento pensando ai luoghi in cui era vissuto e alle città da cui era fuggito che lo avevano fatto sentire come un alieno imprigionato in uno sconosciuto pianeta come un astronauta in un sottomarino in quei posti si era lasciato vivere in attesa di qualcuno che non sarebbe mai arrivato o qualcosa che non sarebbe mai successa era lì che sarebbe morto se non fosse scappato in quei posti aveva sperato che un grave malore lo cogliesse ponendo fine a tutto proprio tutto gioie rimpianti dolori dell'anima lancinanti narvi e fior di pelle alzarsi svegliarsi mangiare comunicare lavorare per vivere sbrigarsi per non far tardi vestirsi andare tornare all'infinito quante volte avrebbe voluto fermare la inaccessibile ruota del tempo o farla girare al contrario tentando di riportarla indietro con il proposito di rivivere senza rifare gli stessi errori ma sapeva bene che anche nell'evenienza in cui fosse stato possibile ciascuno avrebbe inesorabilmente rifatto le stesse cose e commesso gli stessi errori senza alcuna possibilità di cambiare il suo destino zildi si imposi di non pensare più agli anni della sua non esistenza passati girovagando in diverse località prima di approdare nella città in cui viveva dublino che aveva scelto anche per rivedere il suo vecchio amico anzi appena sualtò la strada entrò nel suo pub preferito il malligan e il suo spirito immediatamente si rinfrancò nel pub si diffondeva debolissima una delle canzoni più tristi che avesse mai ascoltato e lasciatosi cullare da quella melodia si accorse che il suo cuore batteva quasi rallentato desiderava essere sfiorato da goccioline di pioggia fresca e si sentiva sempre più estraneo alla massa voleva perdersi nella foresta dei sogni per sempre implorando di non essere cercato chiese una pinta di stout e immerso nel suo mondo la beve senza accorgersene improvvisamente tutto era indefinito e fu colto da uno sfaviglio di luci dalla intermittenza incerta uscì dal suo uragano di emozioni e si accorse dell'uomo dietro il lucido bancone immogano che stava evidentemente parlandogli ma senza riuscire a rispondergli pagò la sua birra sentendo di dover tornare a casa e per la prima volta si scoprì solo raggiunse caso poco dopo sprofondò nel letto e quasi immediatamente cadde in un sonno plumbio in colore senza sogni capitolo 4 capitolo 4 h 24 svegliatosi ancora una volta zildi recatosi al lavoro decise finalmente di sconfinare verso uno delle parti più ambiti e tremendi allo stesso tempo dell'edificio la sezione h 24 era riuscito ad ottenere un pass temporaneo di 24 ore per la famigerata sezione da tutti desiderata ma di difficilissimo accesso quello era un mondo a parte nel quale chi vi si trovava aveva portato all'estremo la scelta più radicale della sua vita chi vi era stato ammesso aveva superato una selezione durissima si stimava che 1 su 1150 venisse ammesso e solo 1 su 10 ne usciva vivo al termine dell'incarico in normali condizioni psicofisiche tornando alla vita normale ai suoi affetti dai suoi cari verso una tranquilla vita di post lavorante era lì che molti venivano colti da morte naturale e li stesso venivano sepolti sildi voleva capire come era davvero lì dentro era così asfissiante come molti sostenevano o se invece o se invece non era poi così terribile esibito così il passo agli addetti all'ingresso il conto alla rovescia cominciò a scandire ore minuti e secondi mancanti alla fine della visita 24 ore senza possibilità di proroga alcuna qualche minuto prima del termine ultimo infatti un addetto avrebbe un addetto avrebbe prelevato l'ospite ovunque si fosse trovato riaccompagnandolo verso l'uscita sildi lo sapeva e non intendeva certo contravvenire alla regola si mise quindi subito alla ricerca del suo amico nick che quasi sette anni prima aveva chiesto ed ottenuto di entrare in h24 facendo perdere ogni notizia di sé era il suo miglior amico con cui era cresciuto sin da piccolo condividendo tutto bastava lo sguardo tra loro due per capirsi subito se fosse stato male sildi lo avrebbe capito subito l'ultimo giorno in cui si erano visti nick gli aveva detto da domani passo in h24 se tutto andrà bene ci vedremo fra sette anni sarò fuori e finalmente libero qualcuno mi pagherà e potrò rinascere viaggiare alla scoperta del mondo potrò finalmente essere quello che avrei sempre voluto e lasciarmi dietro l'alluvione e si erano lasciati così entrambi con gli occhi lucidi e senza dire una parola in più ormai stavano per scadere sette anni e sildi era già felice pregustando il momento in cui l'avrebbe rivisto e aveva scelto proprio quella città e quel lavoro per incontrare il suo amico così entrò senza indugio in quel microcosmo e cominciò a mostrare le foto dell'amico agli abitanti di h24 ma nessuno sembrava riconoscerlo aveva anche una mappa dell'intera struttura che si presentava di forma triangolare con alloggi situati nel sottosuolo cui si accedeva per mezzo di ascensori singoli superveloci che in tempi brevissimi consentivano la discesa ed ascesa degli assegnatari degli alloggi ciascun lavorante aveva il suo alloggio e sildi pensò di sistemarsi presso i varchi degli ascensori sperando quindi di vedere il suo amico entrarne o uscirne ma anche questa strategia fu del tutto inutile e dopo aver percorso spasmodicamente in lungo in largo la struttura cominciò a stancarsi persone entravano ed uscivano dagli alloggi per recarsi al lavoro ma tra di loro non c'era il suo amico era questo l'h24 un posto dove si lavorava si espletavano i bisogni fisiologici di ogni essere umano e si riprendeva a lavorare senza soluzione di continuità così dilatando l'orario di lavoro fino all'intera giornata tutto senza mai uscire dall'edificio così abbattendo in pochi anni il castello di anni di servizi ordinari previsti prima del congedo del riposo ritribuito dallo stato era questa la scommessa che alcuni facevano con se stessi provare ad espandere i propri limiti infrangendo ogni limite tra lavoro e restante vita come essere umano sildi continuò a cercare nick senza sosta il tempo ormai era agli sgoccioli stava per terminare ormai e rassegnatosi si avviò verso l'uscita cercando di scorgere ancora tra i volti proprio quello dell'amico ma niente tra quella umanità così variegata non c'era capitolo 5 il viaggio stanco e deluso per non aver ritrovato il suo amico sildi riprese la via di casa ma giunto nei pressi della stazione ferroviaria vi si fermò e decise all'improvviso di acquistare un trolley uno di chi è tanto sicuro di sé di chi si è realizzato di chi è un leader riconosciuto di chi parla sempre quando dovrebbe stare zitto almeno una volta nella vita di chi è arrogante e non immagina minimamente di esserlo di chi pensa che tutto il mondo ruota intorno a lui di chi non dubita mai di chi vuole essere sempre al posto giusto al momento giusto di chi proprio non ha tempo da perdere per scrivere un libro di chi pensa che possedere una chitarra costosissima e non saperla usare dopo averla imprigionata in una teca sia mille volte meglio che ascoltare anche solo per un minuto un fallito artista di strada di chi non si fermerebbe mai per dare un centesimo a quello straccione che non vuole lavorare di chi solo possedendo tutto cose e persone non sente il vuoto dentro di sé di chi ritiene di aver già detto tutto perché non ha proprio nulla da dire il maledetto trolley era nero lucido e irrimediabilmente vuoto ma zildi non se ne preoccupava anzi attese il primo treno lo vide da lontano e nell'immobilità totale in cui era piombato aspettò che si fermasse ancora una volta come tutte le cose che accadono sempre immancabilmente senza un perché giorno dopo giorno lo sferragliare del veicolo si attenuò fino a cessare del tutto e la cosa movente vomitò la solita marea di persone che di fretta volevano solo tirarsi fuori dall'acciaio gomma plastica odori di vario tipo profumi che ti nauseano volti come l'urlo di munca che ti guardano distratti valigie colossali bottiglie d'acqua tristemente vuote ed abbandonate sui sedili di finta pelle appiccicosi sinfonia orribile di suonerie polifoniche frasi rassicuranti fino alla nausea bimbi che non ce la fanno più con mamme rassegnate incomprese in attesa di qualcosa zildi attese che quella massa di umanità si dissolvesse e salì sul treno ormai deserto e immobile come una cosa inanimata come il suo nemico trolley che lo avrebbe seguito ovunque avesse deciso di andare ovunque il suo nuovo proprietario avesse deciso di continuare a vivere il trolley era vuoto e sgombro da qualsiasi cosa proprio come in quel frangente zildi privo di sé senza alcuna meta ma con una frase che gli risuonava dolcemente ripetutamente nella testa dove andiamo non lo so ma dobbiamo andare e il treno ripartì addio caro lettore grazie per aver avuto l'infinita pazienza di leggere fino ad ora purtroppo non c'è alcun finale inteso nel senso classico tutto finisce così so che questa storia è un po triste ma tra un attimo sarà stata solo un istante della tua vita e sarà stracolma di felicità quella vera perché la vita è bella e vale sempre la pena viverla ogni giorno con gioia e pienezza finché il nostro cuore batterà post scriptura sono uno scrivano fantasma jean peter è sempre in agguato dentro di me il mio intento era solo stare meglio dentro dopo aver terminato queste poche pagine la scrittura per me ha un immenso potere curativo accompagnato dalla mia musica e dai miei libri sempre presenti nei fedeli compagni di emozioni avventure incredibili senza muoversi da casa ho voluto solo tentare di trasmettere i colori del mio animo non sono riuscito a scrivere un finale diverso e me ne scuso ma vi garantisco che ci ho provato il miglior augurio è che zildi stia bene e anche se ma spero di no non dovesse essere felice sia almeno sereno ovunque si trovi ora e con il più bel sorriso che si possa mai immaginare che è per me quello che ho visto di un bambino che per la prima volta guardava estagiato la faccia della luna in una splendida terza notte di estate piena di stelle debolmente luccicanti jpr e